Musica Emergenza incendi, droni della regione individuano presunto piromene, occhiuto, tolleranza zero. Mal tempo, a Fuscaldo si allaga una galleria, chiuso al traffico, il tratto della statale 18. Soverato, la guardia costiera sequestra un cantiere nautico, trovate rifiuti speciali e pericolosi. No al Java Beach Party a Roccella, gli ambientalisti insorgono a vietare grandi eventi in aree naturali. Grazie. Grazie.